Madameina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padroneo, un catalogo è che ho fatti io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Ispania, ma in Ispania sono già 1.30, 1.30. 1.30, ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, i valcontesse e baronesse, i marchettini e principesse, e vanno dentro ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Ispania, ma in Ispania sono già 1.30. Villa e tre, Villa e tre, Villa e tre, sono tra queste contadine, cameriere e cittadine, i valcontesse e barolette, i marchettini e i principetti, e vanno dentro ogni grado, ogni forma, ogni età, con riforma ad ogni età nella bionda e l'ianusanza di lodare la gentilezza nella bruna la costanta nella bianca la dolcezza vuol d'inverno la grassocca vuol d'estate la grassa nella grande la esposa della grande la esposa la piscina la piscina la piscina la piscina e ogni ormettosa, e ogni ormettosa, e ogni ormettosa. E delle vecchie fa conquista, e le piacere di orle in lista. Non si picca, se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella, pur che porti la connella. Voi sapete quel che fa, ma voi sapete, voi sapete quel che fa, e le piacere di ormettosa, e ogni ormettosa, e ogni ormettosa, e ogni ormettosa. Grazie. 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 Grazie.